Contro Taviano per confermare il buon momento, la Gioe Volley torna al Palacapurso per cercare contro i Salentini il terzo successo di fila dopo quelli ottenuti nelle due giornate precedenti contro Pozzuoli e Casoria. Una sfida importante per il sestetto di Nicola Coronelli, momentaneamente quarto in classifica a due punti da Galatone e all'inseguimento delle Battistrada, imbattuta finora nel Girone H, Grottaglie e Leverano. Le due vittorie consecutive aumentano l'autostima e consolidano le certezze di gioco, ha dichiarato in settimana il secondo allenatore della Gioi, Vincenzo Masi. Vincere aiuta a vincere, ha proseguito, e questi due risultati positivi vengono nel momento in cui ne avevamo bisogno. Usciamo da un periodo complicato, già dalla partita di Leverano, nonostante la sconfitta, abbiamo ricevuto indicazioni positive e la sensazione che la costruzione del gioco stesse andando nella direzione giusta. Per Masi contro Taviano sarà una partita tosta perché, dichiare del secondo di coach Coronelli, dovremo mettere in campo tutte le energie. Abbiamo necessità assoluta di fare risultato pieno perché subito dopo le vacanze incontreremo Grottaglie e sarà una partita da dentro o fuori. Quindi domenica siamo costretti a mettere in campo tutte le nostre energie per ottenere il massimo risultato. La partita a gioevolle italiano dell'undicesima giornata del girone H di Serie B maschile di pallavolo sarà trasmessa in diretta da TRM Network domenica 18 dicembre a partire dalle 18.